Amici toscani, ci hanno raggiunto da Siena, i giovanissimi del Siena, piazzatesi terzi, prego ragazzi, venite, venite tutti, grazie, ci consegnano il loro cagnardetto, ci fa onore averlo nella nostra sede, complimenti a tutti i ragazzi del Siena e anche ovviamente del loro dirigente e gli accompagnatori, prepariamoci per la foto, ragazzi sistemiamoci un attimino dietro così riusciamo a coinvolgere tutti per la fotografia, bene, si stiamo avviando alla conclusione di questa ripiazione, grazie ragazzi.